L'ho pagato per 25 anni per cosa? Che mi sono dovuta sempre difendere da sola. Noi si è fatta una domanda precisa anche per noi che siamo fuori. Quello che succederà? Non ci danno una risposta. È stata un'assemblea lunga e tesa, quella allo stabilimento di Terontola della Cantarelli. In gioco c'è il futuro di un marchio storico del tessile aretino in amministrazione controllata dal 2015. Il commissario ha ribadito che ha una svolta e ci ha chiesto fiducia, come ci ha chiesto fiducia da quando è subentrato lui. Di conseguenza siamo usciti da quel tavolo col dire diamogli fiducia e vediamo un po' il proseguo di questa vicenda. La questione più importante rimane quella di un possibile compratore. Sulla stampa è uscito il nome di Richmart, marchio bulgaro, che con un partner italiano, l'imprenditore Anton Giulio Pacenti, si sarebbe presentato con una società nuova di zecca. Attendiamo quello che il Ministero dello Sviluppo Economico deciderà. Questa attesa quanto durerà? I tempi ci è stato garantito che saranno brevi. Il commissario ha promesso, ha dichiarato che ci sono le risorse e le materie prime per fare sicuramente pitti, sicuramente il campionario e se oggi, in questi giorni, il Ministero accetterà le sue proposte, ci saranno anche in prospettiva le risorse e le materie prime per fare la stagione autunnale. Il tasto dolente, anche nel caso di Cantarelli, rimangono i dipendenti in tutto 100 dei 250 quelli che la cordata Italo-Bulgara si sarebbe offerta di assumere. Noi dobbiamo solo sperare. Non c'è nulla di certo, questo è... La rabbia è tanta, soprattutto per la mancata rotazione della cassa integrazione. Io ho firmato una lettera dove c'era scritto che a sua volta sarei rientrata perché ci sarebbe stata una rotazione. Io sono stata firma un mese, due, tre, fino a un anno. All'assemblea, come stamattina, davano la colpa al commissario. Sono andata a parlare con il commissario, il commissario ha dato la colpa ai sindacati e sono stata presa in giro e questa è la cosa che a me mi cosce tanto, mi dispiace tantissimo perché quando a un'azienda gli hai dato anima e corpo e poi ti vedi presa in giro così, tu con qualcuno ti devi sfogare. È il momento di stringere i denti, sì, ma speriamo che poi si possa fare anche un leggero sorriso, forse. Grazie. 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 Grazie.